La continuità territoriale sarà al centro della seduta statutaria del Consiglio regionale in programma il 3 febbraio e quanto hanno proposto e ottenuto i consiglieri regionali di maggioranza Franco Mula e Giovanni Satta, Adel Pisdaz e Dario Giagoni, capogruppo della Lega. La mobilitazione contro i pesanti rincardi delle tariffe dei traghietti dovuti all'adeguamento tecnologico delle compagnie di navigazione alla direttiva europea 802 del 2016 deve continuare, rileva il consigliere Satta. Le proteste nei porti sardi non sono bastate a smuovere l'inerzia del Governo nazionale. Il Ministero dei Trasporti deve trovare soluzioni concrete e non limitarsi ad astrate promesse di impegno. Sulla stessa linea anche il capogruppo sardista Mula. Sulla Sardegna e sui sardi, che da troppo tempo lottano per superare gli ostacoli e le penalizzazioni dovute all'insularità, non possono essere scaricati i costi che derivano dall'inadempienza del Governo nazionale e che comportano aggravi del 25-30% sul costo dei traghietti. Per Giagoni, l'economia della Sardegna dipende quasi totalmente dal trasporto via mare e un rincardo di tale portata comporta pesanti effetti a catena, con aumenti su tutte le merci importate o esportate, compresi i beni di prima necessità, con gravi conseguenze sulla vita dei sardi, che andranno a pesare soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione. Per proseguire nella nota per il superamento del gap dovuto all'insularità, i gruppi del Pisdaz e della Lega hanno pertanto proposto, con l'accordo del Presidente del Consiglio Michele Paesi, che la prossima seduta statutaria sia dedicata al tema della continuità territoriale. Alla riunione, oltre ai parlamentari sardi, ai sindaci e ai rappresentanti di Anci e Cal, verranno invitati gli eurodeputati alletti nella circoscrizione insulare e rappresentanti della Regione Sicilia.